Esempio di ricostruzione di un edificio attraverso scansione laser e ricostruzione del modello 3D in SketchUp. Infatti con strumenti di tipo laser scanner è possibile raccogliere i dati sotto forma di nuvole di punti per poi ricostruire un modello vettoriale, virtuale, digitale 3D in SketchUp. In questo modo per venire a non soltanto gli elaborati bidimensionali ma anche le rappresentazioni tridimensionali del caso ed eseguire la progettazione, eseguire dei rendering, raccogliere dei computi, portare avanti la progettazione all'interno di un modello digitale coordinato.